Primo turno infrasettimanale nel raggruppamento H di Serie D, spicca un interessante quanto entusiasmante Molfetta Bitonto di fronte due delle compagini maggiormente attrezzate della categoria. I padroni di casa in particolare puntano tutto sugli ex Pozzebon e Turitto. Al città degli Ulivi, eccezionalmente, sarà invece di Scenel Biceglie. Per la squadra di Rufini, ostico esame contro la Casertana domenica scorsa, fermata dal team Altamura, che ora cerca continuità contro il Lavello. Lucani a loro volta, travolti in casa dal sorprendente Fasano, i Biancazzurri sul neutro di Locorotondo, cercano quindi il secondo successo consecutivo contro una Mariglianese, anch'essa appaiata a 4-4. Al vicino, interessante derby tra Gravino e Nardò, i Murgiani puntano a proseguire il loro Magic Moment, i Granata cercano di scatto dopo i due K.O. di fila. Per la Mirtus Matino, invece, trasferta insidiosa a Nola. Chiude il quadro odierno San Giorgio Francavilla, mentre domani, sempre alle ore 15, sarà la volta di Rotonda Nocerina.